Ciao ragazze, volevo farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto alla Wicon che sono davvero molto belli Allora, incominciamo con l'eyeliner, che è questo qui Lo preferisco rispetto agli altri eyeliner, perché diciamo che è molto più morbido e ha un tratto un po' più deciso E rispetto a quelli liquidi è molto più preciso col pennello, infatti il tratto viene un po' più marcato Poi vi faccio vedere un ombretto, che è davvero molto bello, con pigmenti dorati Che va bene su qualsiasi colore di occhi Adesso ve lo faccio vedere Che il colore è questo Sta bene con qualsiasi sfumatura, sia marrone che nera E' davvero molto bello E poi vi faccio vedere questo ombretto Che è sul rosa Un rosa laminato Si presenta così E ne basta veramente poco per colorare l'occhio Quindi questi durano tantissimo C'è, io ho comprato alcuni Degli altri video tutorial che ho fatto C'è i toni sul verde, sul blu, sul viola, l'argento Che mi sono durati tantissimo E si possono usare anche come liner Tranquillamente con un pennellino Questo è il colore Spero che metti a fuoco E poi ho comprato Questi tipo di ombretti Che sono sempre in un gusto un po' più Un po' più duri rispetto a quelli lì che vi ho fatto vedere Questo è un celeste ghiaccio Questo è stupendo Cioè a me mi piacciono molto i colori accesi Non so se si vede E sul celeste ghiaccio E sul celeste ghiaccio Veramente bello E niente E niente Poi Sempre della stessa linea Un colore sul blu Rispetto a quello celeste è un po' più scuro E l'ultimo acquisto che ho fatto è stato quello del rossetto Che è questo qui che ho E che è un colore molto chiaro Però messo sulla carnagione Si accentua ancora di più Che sarebbe questo qui E la matita Che va insieme Dello stesso colore E li ho acquistati Ne ho approfittato Perché erano Erano in offerta Spero che questi acquisti vi siano piaciuti Fatemi sapere Quelli che Vi sono piaciuti di più E giù nell'info box Vi lascio I codici E i nomi